Francoforte è un salone per noi fondamentale, essendo una marca tedesca, questo è il mercato più importante che abbiamo. Due novità importanti, due anteprime mondiali, stiamo parlando della Grandland X, un SUV compatto, molto versatile e dell'insigna nella versione GSI sportiva e nella versione più avventurosa che è la Country Tourer. Per quanto riguarda la Grandland X stiamo parlando di un segmento C, quindi più piccola di una berlina, molto spazio interno, tecnologia di segmento superiore un'auto ipercornessa anche grazie al sistema OnStar e un'auto molto molto sicura. Per quanto riguarda invece l'insigna, il nostro cavallo di battaglia è una versione sportiva con un motore 2 litri a 210 cavalli turbo quindi una macchina molto precisa da guidare, molto divertente che poi è anche in versione Country Tourer quindi una versione un po' più lifestyle per un po' più off-road, un po' più SUV. L'anno 2017 però è un anno molto importante perché abbiamo lanciato 7 nuovi modelli nel 2017. Questi che vedete sono solo alcuni le due enteprime di tutte le ultime vetture che lanceremo che hanno non solo a che fare con i SUV ma anche con i veicoli commerciali grazie a Vivaro e con una versione molto importante dell'Astra, Astra Metano, che va a colmare un'esigenza di mercato molto molto sentita.